I TECO I TECO è una divisione indipendente di SCM Group, riconosciuta in tutto il mondo per lo sviluppo, la produzione e la vendita di componenti ad alta tecnologia, per i produttori di macchine utensili e per tutte quelle applicazioni che prevedono un'asportazione trucciolo e quindi una fresatura. I prodotti I TECO sono adatti a vari settori di applicazione che spaziano dall'edilizia all'automotive, dall'aerospaziale alla robotica. Da gennaio 2018 ABB Robotica Italia ha istituito il Regional Application Center Ending & Machining con lo scopo di fornire competenze e soluzioni tecnologiche nell'ambito del machining, quindi fresatura, sbavatura, carteggiatura per differenti tipi di materiali. Una delle principali attività del Regional Application Center era quella di realizzare pacchetti standard con robot equipaggiati con elettromandrini e relativi componenti pronti per l'installazione. L'esigenza era quella di soddisfare la più ampia fascia di applicazioni da proporre alle business unit ABB nel mondo. E per realizzare queste soluzioni ABB ha scelto di collaborare con I TECO. I modelli di elettromandrini I TECO proposti e selezionati da ABB sono IQX e PX. Questa tipologia di elettromandrini fa parte della nostra serie Robotech. Si tratta di modelli con carcassi in alluminio, raffreddati a liquido, con attacchi HSK tipologia F, E o A. Ciò che contraddistingue questa tipologia di elettromandrini è la vasta gamma di potenze disponibili nello stesso layout. Per la serie QX offriamo potenze che vanno dagli 8,5 agli 11 kW, mentre nella serie PX le potenze vanno dai 10 ai 20 kW. Il grande vantaggio è quello di predisporre il robot con la stessa interfaccia, indipendentemente dalla potenza dell'elettromandrino selezionato. Abbiamo scelto I TECO per l'ampia gamma di prodotti, l'elevata qualità tecnica di realizzazione e la competenza dimostrata nel supporto tecnico. Inoltre la presenza capillare e la capacità di fornire supporto a livello globale rappresentano per noi un notevole valore aggiunto. Attraverso questa collaborazione ci poniamo l'obiettivo di accrescere ancora di più il nostro know-how per offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più innovative e all'avanguardia. Grazie a tutti.